È stata annunciata la riapertura della colonnetta, dopo la frana che è avvenuta si parla di un periodo in cui si farà soltanto senso unico, però già al lavoro il comune e poi erano stati chiesti anche dei soldi per gli altri danni. Sì, soltanto dieci giorni sono passati da quel venerdì e sabato in cui abbiamo avuto per davvero una emergenza importantissima sulla città perché la colonnetta è la strada di collegamento principale tra la parte alta e la parte bassa di Chieti, ma con il lavoro fatto prima dai dipendenti comunali per l'intera notte per ripristinare il servizio idrico con una nuova linea e poi con una ditta a cui abbiamo affidato in somma urgenza i lavori per alleggerire il fronte della frana in modo da non gravare troppo sul muro già compromesso che lo conteneva, che è proprio quello che poi guarda sulla via colonnetta, credo oggi di poter dire che siamo ad un punto che è quello della ripartenza. Che cosa intendo dire? Intendo dire che ora siamo in grado, ieri abbiamo deciso e domattina faremo un nuovo tavolo tecnico per individuare il cronoprogramma, ma abbiamo deciso la riapertura entro la settimana almeno di una corsia della via colonnetta con la messa in sicurezza della stessa attraverso una linea di New Jersey in cemento armato e il lavoro che continua sul fronte della frana. I lavori sono importanti, abbiamo bisogno, così vengono stimati almeno di 500 mila euro per poter ripristinare i canoni di sicurezza di quella scarpata e poi chiaramente dobbiamo ripristinare la filovia, ripristinare la rete elettrica, ma anche fare una nuova linea dei servizi idrici integrati perché ovviamente su quel fronte non è più possibile farli passare.